Grazie a tutti voi per l'invito. Comincerò anche con una battuta, visto che il Brexit che invidia per questi britannici, ma non tanto per il risultato. Ognuno di noi sull'Europa può avere opinioni le più diverse, ma perché hanno potuto scegliere, che non mi pare una cosa da poco in questa Europa. Qualcuno diceva, io stesso ieri facevo una battuta, adesso mancherebbe solo come beffa finale che ai campionati europei di calcio l'Inghilterra battesse in finale la Germania 4 a 0. Ma parliamo di cose serie e non di calcio. Immigrazione ai confini. Questo problema noi lo stiamo affrontando sotto tanti punti di vista. Noi, dico noi italiani, ma anche noi europei, essenzialmente dal punto di vista umanitario. Ci concentriamo su questo aspetto, che è un aspetto certo importante, ma ci sfugge l'aspetto prioritario, che è quello che riguarda gli interessi nazionali. Che riguarda ad esempio concetti come legalità, che negli ultimi anni sembrano essere andati completamente perduti, anche nella percezione politica. Io lo vedo anche nei dibattiti a cui a volte partecipo in televisione su questi temi. Mi vedete, tante volte ci si ferma a dire, beh, insomma, ci sono i profughi di guerra, bisogna accoglierli. E qualcuno dice, aggiungendo un altro canale di comunicazione, un'altra linea di comunicazione, su un tema ben diverso, beh, in fondo poi noi di immigrati abbiamo bisogno, perché abbiamo il calo demografico. Ne ha parlato con maggiore autorevolezza, certo, di me, chi mi ha preceduto. Beh, insomma, è vero, è facile da dire, beh, il calo demografico si può combattere anche con assegni familiari decenti, asili nido gratuiti, ma il problema fondamentale, quello a cui sembra che nessuno voglia riuscire a dare una risposta, non solo in Italia, ma in ambito europeo, è che un paese valuta l'arrivo di immigrati in base alle sue esigenze. In generalmente ci sono paesi che hanno un grande boom economico e carenza di mano d'opera, qualificata o meno, e quindi si rivolgono ai canali dell'immigrazione. I nostri antenati emigrarono in America, in Argentina, negli Stati Uniti, per queste ragioni e non illegalmente. E poi generalmente ce li potremmo anche scegliere, gli immigrati che ci servono. Ci sono tanti signori rossi e melotti, nipoti di italiani che emigrarono in Argentina, che non riescono ad arrivare coi barconi, ma che verrebbero volentieri oggi in Italia, anche perché l'Argentina non offre più grandi opportunità di vita serena, anche di ricchezza. E non riescono a venirci perché sono extracomunitari, non prendono i barconi, non sono profughi di guerra, non si dichiarano tali. E poi vedete c'è tutta la logica del rifugiato, del naufrago, del profugo di guerra. Insomma, rifugiato, profugo lo sarai quando avrai ricevuto uno status, quando arrivi sei un immigrato clandestino. Ma come già ci insegnava Orwell nel 1984, se noi eliminiamo le parole che identificano un concetto, beh, allora eliminiamo anche quel concetto. Per cui, se noi pensiamo a un titolo sul giornale, Orban, presidente ungherese, che dice tutti i profughi a casa loro, me lo sto inventando adesso, beh, la riprovazione sarebbe generale. Se il titolo fosse tutti gli immigrati clandestini a casa loro, beh, la percezione sarebbe, beh, forse ha anche ragione. Allora, c'è tutta una grande operazione, anche sul linguaggio, che ci sta confondendo le idee, ci sta distaccando dai due valori fondamentali, sui quali dovremmo basarci. E sono la legalità, perché è inutile, togliamoci l'illusione di essere buoni e umanitari. Noi non accogliamo popoli in difficoltà. Noi possiamo accogliere persone tra le quali ci sono anche coloro che sono in difficoltà. Ma non abbiamo scelto, non c'è una decisione politica, come facciamo nel 79, mandammo un gruppo navale davanti alle coste del Vietnam a raccogliere i bot people, che scappavano dai liberatori comunisti del Vietnam del Sud. Fu una scelta politica. Ne portammo qua un migliaio perfettamente integrati. Potremmo, avremmo potuto decidere di aiutare un popolo in difficoltà, un popolo sudanese, o gli yazidi in Iraq, o alcune comunità kurde cacciate dall'ISIS, portarli qua, assisterli, finché la loro terra non fosse tornata in pace. Noi non abbiamo scelto. Noi accogliamo soltanto coloro che pagano, organizzazioni criminali, che tutti i servizi di intelligence ci dicono essere legate sotto diversi punti di vista, incluso quello finanziario, ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico, e accogliamo solo quelli, solo quelli che arricchiscono, che pagano, le organizzazioni criminali legate al terrorismo. Questa è la triste realtà. Ci sono alternative? Sì, ci sono tante alternative. Tanto però dobbiamo focalizzare quello che stiamo facendo. Io sono stato due anni fa in Niger, che essendo il terzo paese più povero del mondo, non interessa quasi a nessuno, non abbiamo neppure un'ambasciata là, dovremmo avercela, perché invece quel paese è l'hub, è il punto di ritrovo di tutti gli immigrati dell'Africa occidentale, che da lì marciano poi con i pullman verso Agadez. Io li vedevo alle stazioni degli autobus di Niamè, della capitale. E da Agadez in poi, porta del deserto, cominciano a pagare i trafficanti per arrivare poi sulle coste libiche in Italia. Il totale del viaggio costo circa 10.000 euro per un viaggio che può durare anche un anno. Ovviamente non partono i poveracci, perché 10.000 euro nel terzo paese più povero del mondo, una famiglia ci campa per molti anni. Partono quelli che possono permettersi di vendere una casa, o perché hanno i soldi già, o possono vendere attività. I poveracci restano là, nelle capanne di sterco e paglia, con i bambini con la pancia prominente, non avranno i soldi per mangiare, figuratevi, per pagare i trafficanti. Eppure da quel paese si raccolgono tutti gli immigrati dell'Africa occidentale che non sono profughi di guerra, ma che sono la gran parte di quelli che giungono da noi. E che Fabrice Leggeri, tradizia un po' il cognome e l'origine italiana, direttore di Frontex, già un anno e mezzo fa disse che sono migranti economici che non hanno nessun diritto di restare in Europa e che dovrebbero essere rimpatriati. Oggi nessuno è stato rimpatriato. E sono la gran parte di quelli che arrivano. Perché c'è un gioco pesante anche sui profughi di guerra? Perché da che mondo è mondo? Io è dal 1991 che vado a vedere per il mio lavoro le guerre in giro per il mondo e vi devo dire che in tutte le guerre la gente scappa. Scappa nei paesi confinanti, nei campi profughi creati da organismi internazionali, dove fanno domanda d'asilo in alcuni stati. E ogni stato che è disponibile ad accoglierli manda commissioni che li interrogano, li guardano, li osservano, guardano il loro passato e poi li accolgono. Voi sapete che Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti stanno accogliendo migliaia di profughi siriani. Non li prendono da quelli che sono arrivati pagando la criminalità organizzata in Europa. Li vanno a raccogliere, a prendere nei campi profughi. Dopo averli selezionati per evitare di portarsi in casa qualche jihadista pronto a farsi esplodere. Noi questo non lo facciamo. Eppure lo potremmo fare. E adesso vi proverò a spiegarvi anche una qualche ipotetica soluzione. Abbiamo un forte impegno militare. Nel 2013, quando partì Mare Nostrum, a oggi, abbiamo portato in Italia con le nostre navi circa 550.000 persone. Con un costo notevole. Solo quest'anno l'Italia spenderà 160 milioni per alimentare la missione navale europea e quella italiana, Mare Sicuro, che si occupano di questo. Dovrebbero occuparsi di altro. Voi sapete che abbiamo un sacco di flotte nel Mediterraneo. Quella di Frontex, Operazione Triton, dovrebbe proteggere le frontiere dell'Europa. In realtà, raccoglie gli immigrati clandestini che arrivano coi barconi e li sbarca in Italia. Abbiamo Mare Sicuro, Operazione Italiana, che insieme al dispositivo della Guardia Costiera e Guardia di Finanza dovrebbe proteggere i nostri interessi. Mare, piattaforme petrolifere dell'Eni, innanzitutto il traffico marittimo e i pescherecci. E in realtà, quello che fa è raccogliere i migrati e sbarcarli in Italia. È una Formed, la grande e colossale operazione navale europea guidata da una porta aerei. Oggi c'è la Garibaldi italiana, prima c'era il Cavour, sempre italiano, che doveva, la disse la Mogherini, avviando l'operazione, interrompere il modello di business dei trafficanti. Adesso voi mettetevi nei panni di un ufficiale, di Marina, che riceve l'ordine di interrompere il modello di business di una banda di trafficanti. Non so cosa voglia dire, penso che nessuno l'abbia ancora capito. In realtà, anche questa missione si limita a raccogliere in mare i migrati clandestini foraggiando il modello di business. L'Europol, che non è proprio un'organizzazione razzista, due settimane fa, nel suo rapporto, fece presente che solo l'anno scorso i trafficanti avevano guadagnato tra i 5 e i 6 miliardi di euro portando in Europa i migrati clandestini. Se ci pensate, è il doppio della cifra che abbiamo imposto come UE alla Grecia di tagliare dal suo welfare un mese fa. Ed è circa pari alla cifra che abbiamo dato come UE alla Turchia, perché la smettesse di mandarci profughi siriani, iracheni, afghani, moltissimi immigrati clandestini asiatici. Quindi l'aspetto della legalità è fondamentale. Noi stiamo dando un esempio negativo sotto due punti di vista. Il primo, abbiamo convinto il mondo intero, in particolare gli africani, io ci ho parlato e loro erano tutti convinti di poter venire in mare, e poi gli italiani, la marina italiana li avrebbe portati in Europa dove avrebbero vissuto tra gli agi. Abbiamo convinto tutti, in particolare gli africani, che l'Italia non ha confini, non ha frontiere, non le difende, neppure l'Europa lo fa, e comunque entrando in Italia o in Grecia puoi andare ovunque. Abbiamo perso la credibilità. Non c'è un solo paese al mondo che non abbia, nella difesa dei suoi confini, attraversabili solo da chi ha autorizzato, uno dei pilastri della sua sicurezza, che infatti ha messo in difficoltà. Sempre il rapporto a Europol ci dice, con i clandestini, visto il facile passaggio, sono arrivati anche tantissimi terroristi, vogliamo chiamare in un altro modo i foreign fighters, gente che ha combattuto con Al-Qaeda, con l'Isis, e arriva facilmente in Europa dove può riorganizzarsi come meglio crede. Ne hanno restati tre in Austria qualche giorno fa, non se ne è parlato molto sui media, devo dire. E poi c'è l'altro aspetto, quello della deterrenza. L'unico modo che abbiamo di vincere una guerra, una sfida, per la nostra sicurezza, senza combattere, è quello di usare la deterrenza, cioè di impiegare uno strumento militare che sconsigli ai nostri avversari di fare iniziative contro di noi. È il principio in base al quale la guerra fredda non è mai diventata calda. Tutti avevano armi nucleari e quindi nessuno dava via a questa guerra. Noi questo principio della deterrenza lo abbiamo buttato in cantina. Perché? Perché stiamo impiegando una delle più importanti flotte europee, quella italiana, che purtroppo ha qualche difficoltà. Adesso vedremo quali. I turchi stanno superandoci per tonnellaggio di navi, stanno superandoci. Turchia potenza che sta crescendo anche nel Mediterraneo. Bene, abbiamo perso ogni deterrenza perché la nostra marina è vista come una marina che raccoglie immigrati clandestini e li porta in Europa. Del resto è paradossale che impieghiamo navi costate mezzo miliardo di euro l'una, fregate lanciamissili, come se fossero traghetti. Il problema serio è che questa iniziativa che stiamo portando avanti ormai da anni, politicamente corretta forse, ma politicamente assurda e deleteria per gli interessi nazionali, non ha sbocchi. Non è che se noi li raccogliamo anche quest'anno ne arriveranno sempre di più. Il fatto che l'Inghilterra esca dalla UE per un certo verso per me è un dispiacere perché era l'unico paese che faceva la punta ai chiodi, alla Mogherini, anche all'Italia. Era il paese che diceva l'operazione ha un senso se contrasta i trafficanti, non se ne aiuta il business. E adesso gli inglesi faranno da soli, probabilmente. Ci mancherà una voce critica dentro l'Unione Europea che non ha cambiato nulla, ma che almeno si faceva sentire. Quello che stiamo facendo non ha nessuna prospettiva. Questo flusso sarà infinito perché nessuno in Africa rinuncerà a poter venire gratis o quasi in Europa. Se li portiamo noi. I flussi saranno infiniti e ci saranno sempre moltissimi morti perché non c'è la possibilità di fermarli tutti visto che abbiamo rinunciato ad operare dentro le acque libiche in attesa di un'autorizzazione dell'ONU che l'ONU non ci darà mai. E verremo anche all'ONU. Abbiamo dei seri problemi di credibilità militare perché è vero che la Marina Militare come tutte le forze armate avendo un bilancio della difesa ormai molto risicato e sempre più limitato soprattutto alla voce esercizio che è quella che finanzia addestramento carburante e munizioni. Abbiamo reggimenti interi che non si addestrano a fare la guerra da anni perché non ci sono i soldi. Per tutte le forze armate ogni missione anche la più assurda o poco militare è comunque una manna perché porta finanziamenti. Noi quest'anno spenderemo con decreto apposito 1,25 27 miliardi di euro per le missioni all'estero 160 milioni per queste missioni navali. Il problema serio è che la Marina si sta trovando che si ha riuscito a dimostrare con Mare Nostrum il fatto che fosse necessario e quindi ha incassato anche finanziamenti per costruirsi navi nuove ma in realtà i tagli al bilancio stanno dimezzando i fondi per la manutenzione delle navi nel momento in cui negli ultimi tre anni il numero di ore di moto delle navi della flotta italiana sono passate da 70.000 a 110.000 ve la faccio breve stiamo usurando la nostra Marina per un'attività di traghetto dall'Africa all'Europa immigrati clandestini tra i quali pochissimi pochissimi avranno hanno diritto all'asilo come profughi di guerra. Allora tutto questo ci porta ad una valutazione cosa stiamo facendo con chi lo stiamo facendo ma chi sono i nostri alleati il problema serio è che l'Italia non assume iniziative autonome e si richiama agli organismi di cui fa parte le Nazioni Unite ci devono dare il mandato per intervenire in Libia per fare respingimenti dobbiamo sostenere un governo libico voluto dall'ONU ce l'abbiamo quello di Fayez al-Sharaj che una settimana fa ha detto beh io non me li riprendo gli immigrati clandestini li lascio partire ma non me li riprendo forse potevamo negoziare il nostro appoggio al suo governo traballante chiedendogli in cambio qualcosa non l'abbiamo fatto tra l'altro è un governo sostenuto dall'ONU che è nato da un accordo aschierato in Marocco su 34 punti il quinto punto recita la sharia è l'unica fonte del diritto in Libia qualunque altra fonte del diritto non sarà più valida noi appoggiamo un governo così tanto valeva la pensa così anche l'ISIS la pensa così anche Al-Qaeda la pensava così anche Osama Bin Laden appoggiamo noi europei noi italiani questo governo che ci stupiamo che non ci vuole dare una mano sul fronte dei clandestini per forza la gran parte delle milizie tribali che lo sostengono tutte legate alla galassia islamista appoggiata dal Qatar e dalla Turchia incassano denaro si parla del 50% del PIL della Tripolitania di quella regione della Libia che orbita intorno ai traffici di immigrati clandestini verso l'Italia potrà mai Al-Sharaz far morire di fame i suoi unici sostenitori che si ingrassano su questo traffico abbiamo un problema di alleanze da tempo ce l'abbiamo perché vedete gli americani non sono più i nostri alleati ce ne siamo accorti fino a Bush hanno provato a essere elemento di stabilizzazione con qualche errore tante difficoltà ma devono aver scoperto forse grazie al fatto che hanno l'autosufficienza energetica che costa di meno destabilizzare che stabilizzare e da lì la guerra in Libia che ci ha spiegato anche che neppure gli europei sono nostri alleati soprattutto inglesi e francesi da lì la destabilizzazione dell'Ucraina guarda caso il paese che faceva da collettore fra una Russia ricca di energia è un'Europa potenza industriale con oggi 31.000 soldati della Nato che stanno addestrandosi in Polonia vicino a Kaliningrad perché la Nato alleanza di cui facciamo parte che comprende anche la Turchia paese che ha scatenato la guerra civile in Siria la Nato ci dice che la minaccia principale per la nostra sicurezza sono i russi io ero a Parigi qualche giorno fa però per Parigi si aggiravano uomini armati che non erano russi non erano militari dell'armata rossa gridavano all'Akbar e allora è chiaro che insomma c'è qualcosa che non funziona nelle nostre alleanze in quello che stiamo facendo non abbiamo il coraggio di assumere iniziative nazionali per i nostri interessi e al tempo stesso restiamo dietro alleanze che stanno lavorando contro i nostri interessi gli americani ci ordinano di mandare soldati in Iraq alla diga di Mosul tra l'altro Obama ha preso anche in giro Renzi l'accordo l'avevano fatto segretamente e mi avvio la conclusione e poi lui l'ha raccontato in incontro pubblico costringendo Renzi ad andare a porta a porta a spiegare che sì andiamo a presidiare la diga a 5 km dalle postazioni dell'Isis perché un'azienda italiana avrà un contratto da 2 miliardi di euro per ristrutturarla a parte che ci sono tante aziende italiane che lavorano in paese a rischio e non hanno bersaglieri che le proteggono poi in realtà il contratto è stato di 300 milioni soltanto che ce li bruceremo già con un anno di presenza di 500 bersaglieri lì però il contratto lo incassa la Trevi i bersaglieri li paghiamo noi non mi pare sia prioritario per noi restare in Iraq in una guerra che contro l'Isis che anche gli Stati Uniti combattono molto blandamente e che noi non combattiamo noi dobbiamo comprare gli F-35 che saranno aeree indisibili ma noi ce li abbiamo già gli aeree indisibili ci sono quattro tornato oggi AMX gli hanno appena dato il cambio basati in Kuwait insieme a due droni che volano sull'Iraq disarmati l'Isis non li ha mai visti non se ne è mai accorto che c'erano questi aerei italiani non abbiamo mai tirato una bomba in testa allo Stato islamo stiamo spendendo un sacco di soldi per missioni che non sono nell'ottica dei nostri prioritari interessi nazionali resteremo in Afghanistan rafforzeremo anche lì ci stavamo ritirando ma poi è arrivato il controordine Obama lo ricordate nel 2010 dice sì manderò rinforzi ma dall'anno prossimo ci ritiriamo ai talebani da allora gli è andata sempre meglio ovviamente provate a immaginarvi se nel 43 Churchill, Roosevelt e Stalin avessero detto alla conferenza di Teheran continueremo a combattere il nazismo ma solo fino a dicembre 44 avremo ancora le svastiche in giro per l'Europa concludo dicendovi cosa dovrebbe fare a mio parere è una proposta che ho portato avanti già da qualche anno dai tempi di Mare Nostrum per fermare l'immigrazione clandestina una proposta che nasce anche dall'esperienza che ho fatto nel Sahel parlando con chi gestisse questi flussi con chi partecipa a questi flussi con gli immigrati noi dovremmo fare i respingimenti assistiti che vuol dire raccogliere appena salpate le persone dalle barche nessuno morirebbe li salveremo subito nel momento in cui non sono ancora in mare da tre giorni non sono ancora stremati li raccoglieremo subito però i libici sono d'accordo o meno intanto lo facciamo intanto lo facciamo perché dobbiamo salvaguardare i nostri interessi nazionali li portiamo su una nave grande ne abbiamo le nostre porta aerei le porte elicotteri li registriamo tutti le impronte digitale le prendiamo non come abbiamo fatto per tanto tempo facendo passare centomila persone senza un solo controllo anche di questo gli inglesi si sono arrabbiati e anche su questo l'Inghilterra ha cominciato a nutrire molti dubbi sulla UE li registriamo e poi bambini donne incinta feriti malati li accogliamo li curiamo e li rimpatriamo attraverso i loro paesi di origine come si fa? non col migration compact che vuol fare Renzi o la UE Mogherini parlava di 62 miliardi all'Africa sono 70 anni che diamo soldi all'Africa abbiamo solo arricchito dittatori sovrani imperatori gente che sterminava il suo popolo no dobbiamo usare forse la leva economica finanziaria verso l'Africa in maniera opposta ogni anno la UE dà un sacco di soldi a questi paesi che non sono in guerra la gran parte di questi non lo sono allora condizionare che questi soldi vengano continuati che si continui a elargire questo denaro condizionando però questa elargizione al fatto che si riprendano i loro immigrati clandestini è una scelta politica che secondo me un paese serio che vuole tutelare i suoi confini e con essi i suoi interessi nazionali dovrebbe assolutamente fare tutti gli altri che non sono malati non sono feriti la gran parte quelli che arrivano sono in perfette condizioni ma ve l'ho detto io li ho visti sono persone che stanno bene a casa loro non sono denutriti sono persone sono il meglio della loro società tutte queste sui mezzi da sbarco li si riporta sulla spiaggia libica indivinduando una spiaggia tenendoci davanti una bella fregata lanciamissili i frame da mezzo miliardo di euro li avremmo spesi per qualcosa quei soldi o lo usiamo solo per fare il traghetto chiunque si avvicini rompendo le scatole quella nave fa deterrenza non il traghetto fa deterrenza e lì si sbarca certo qualcuno non la prenderà bene hanno pagato migliaia di euro per arrivare lì proprio per questo i respingimenti assistiti durerebbero una settimana nessuno pagherebbe più trafficanti per un viaggio che si concluderebbe sulla sponda africana del Mediterraneo sarebbe meglio fare questo con l'accordo con un governo libico certo sarebbe anche meglio avere una legge italiana ed europea che dice che chiunque anche se ha diritto all'asilo come profugo rifugiato nessuno potrà avere asilo in Italia o in Europa se arriverà sulle nostre coste pagando organizzazioni criminali violando le leggi è una cosa difficile per degli stati stabilire una regola che preveda che non si può entrare illegalmente si fa richiesta come si è sempre fatto in tutte le guerre e i respingimenti assistiti hanno anche un altro vantaggio che comporterebbero una dura reazione degli immigrati nei confronti degli scafisti e dei trafficanti io vi ho pagato e mi ritrovo qui rivoglio i miei soldi a questo basterebbe aggiungere una missione umanitaria stile ONU sulle coste della Libia oggi c'è un governo legittimato dallo stesso Nazione Unite per aiutare assistere il rimpatrio di questa gente alcune agenzie dell'ONU io le ho viste nel CEL lo fanno già implementarle aiutarle anche con fondi nostri perché no sarebbe una causa importante noi avremmo risolto probabilmente in brevissimo tempo questo problema almeno sul fronte libico credo che questa sia una proposta che andrebbe presa in esame certo qualcuno tu ti hai sempre detto ma l'ONU non ci autorizza ma signori miei quando gli egiziani l'anno scorso e concludo nel febbraio 2015 mandarono i loro aeroplani e poi le forze speciali a Derna in Libia uccidendo 250 uomini dell'Isis scatturandone altrettanti portandoli poi in Egitto dove la tortura e la pena di morte sono legali ha chiesto il permesso all'ONU no lo ha fatto perché l'Isis gozzò 12 cittadini egiziani copti sulla spiaggia facendo anche un video che forse voi ricorderete perché nel febbraio scorso gli americani hanno chiesto il permesso all'ONU per andare a bombardare la base dell'Isis a Sabrata insomma quando ci sono gli interessi nazionali in ballo occorre avere la responsabilità la forza politica di difendere e tutelare gli interessi nazionali se no abbiamo una classe politica del tutto inutile sull'ONU e concludo è quell'ONU che ha ratificato un governo che riconosce in Libia la sciaria come unica fonte del diritto accidenti non ci fa bella figura è quello stesso ONU che aveva messo due settimane fa l'Arabia Saudita e altri paesi emirati del Golfo che bombardano poco l'Isis ma molto i ribelli sciti nello Yemen in una lista di paesi cattivi perché usano le armi i bombardamentieri contro i civili beh i sauditi hanno detto che se non venivano depennati da quella lista smettevano di dare soldi all'ONU e banchimo gli addepennati affidarci ai nostri alleati europei Nazioni Unite Stati Uniti non è più del nostro interesse abbiamo la necessità l'esigenza di saper fare da soli pensare a cavarcela da soli non per rifondare l'impero non per imporre il nostro volere a nessuno ma per difendere almeno nel bacino del Mediterraneo o se volete nel cosiddetto Mediterraneo allargato che blambisce il Medio Oriente i nostri interessi nazionali perché penso tutti siamo d'accordo nell'aver compreso che se non ce li tuteliamo da soli gli interessi nazionali e questo vuol dire anche investire nelle forze armate meglio se con prodotti nazionali invece di arricchire le grandi società americane che poi mantengono la sovranità sui sistemi d'arma che ci vendono penso che tutti siamo d'accordo nell'aver compreso che se i nostri interessi nazionali non li difendiamo da soli nessun altro né i partner né gli alleati della Nato che ci vorrebbero in guerra contro i russi lo faranno al posto nostro vi ringrazio grazie